Questo video riguarda i migliori 3 coltello da caccia. Il vincitore della qualità è il Fardair Knife. I coltelli da esterno optica al Fardair attirano davvero l'attenzione. La sua impugnatura antiscivolo G10 è piacevole da usare, l'alloggiamento in fibra di carbonio assicura un design nobile e le lame accuratamente trattate sono robuste. Come un coltello da esterno, un coltello da vita, un coltello da pesca o un coltello da caccia, 0036 è affidabile, preciso per incidere, tagliare, tagliare e affilare. Che si tratti di campeggio, escursioni o altri prodotti artigianali, un must per tutti gli appassionati di attività all'aperto. Poiché crediamo nella qualità del coltello da lavoro 0036 e apprezziamo la soddisfazione del cliente, esiste una garanzia di rimborso di 30 giorni. Inizia subito la tua avventura all'aperto. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il bulke coltello. Il coltello da caccia con lama spessa 5 mm ha un'eccellente resistenza e resistenza al taglio e resistenza alla corrosione. Realizzato in legno di alta qualità con pomello per proteggere le dita e ridurre al minimo l'appaticamento della mano, per garantire resistenza allo scivolamento durante l'uso e un'eccellente presa in condizioni di bagnato o asciutto. Il fodero in pelle di alta qualità realizzato a mano con passante per cintura integrato consente di trasportare il coltello di sopravvivenza in modo sicuro e sicuro sulla cintura. Realizzato in acciaio di 2 di alta qualità, lama affilata spessa 5 mm con perno continuo per la massima durata. Tre rivetti rafforzano l'impugnatura full tang per molti anni. È possibile utilizzare il nostro coltello da campeggio per diverse attività all'aperto. Il vincitore del premio è il Morpilot coltello da caccia. Apri bottiglia, interruttore di vetro, taglierino per cinture di sicurezza, coltello caccia. Torcia LED potente a 5 modalità, alta luminosità, media luminosità, bassa luminosità, stroboscopio, SOS. Premere il pulsante posteriore per accendere, premere il pulsante a metà profondità per selezionare la modalità di funzionamento. Alluminio di alta qualità, IPX4 impermeabile antigoccia, potenza da, 1X18 1650 3.6 V barra 3.7 V o 3X batteria AA batteria non inclusa. Entrambi hanno il disegno della clip della penna, portatile per il campeggio, l'escursionismo, la caccia, l'equitazione, la pesca. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.